Salve a tutti ragazzi e bentornati su Mitch Tuning Oggi andiamo a vedere come pulire il filtro dell'aria pannello sportivo In particolare io ho quello della BMC Quindi per chi ha il filtro dell'aria della BMC Deve fornirsi dell'apposito kit dedicato Ovviamente marcato BMC Quindi andiamo come prima cosa a utilizzare il detergente, il sapone per intenderci Per sgrassare bene tutta la superficie del filtro dell'aria Io mi sono dotato di uno spruzzino Quindi ho messo circa 100 ml di sapone E l'ho utilizzato tutto Ci tengo a precisarvi che io l'ho lavato due volte Ma qui nel video vedrete soltanto un lavaggio Quindi una volta che ci siamo spruzzati il detergente Lasciamo agire per circa 10 minuti Così che faccia effetto l'azione dello sgrassatore E poi andremo a pulire il filtro con acqua fredda E uno spazzolino Uno spazzolino perché così alla testa bella stretta riesce a passare tra le fessure di cotone Ovviamente non spingete troppo Se no andate a intaccare il cotone A rovinarlo Quindi comunque sia Non andateci con troppa violenza Con troppa aggressività E fate piano Con calma E state tranquilli che si pulisce tranquillamente Un ulteriore consiglio che posso darvi E' quello che io non ho fatto d'altronde E' quello di sbattere un po' il filtro dell'aria Magari non troppo forte sempre Lo sbattete così cadono tutti i detriti di polvere Di fogliame o comunque sia sporcizie varie Quelle più grosse ecco Così da facilitare un po' la pulizia col pennello Una volta lavato lo lasciamo asciugare per 2-3 ore Io l'ho lasciato asciugare mezza giornata sotto al sole Come potete vedere è perfetto Ripeto io l'ho lavato due volte Quindi questo risultato è venuto dopo due lavaggi Ed è praticamente come nuovo Quindi aspettiamo che si asciughi veramente bene E andiamo a utilizzare l'olio fornito sempre nel kit Mettiamo il cappuccetto dedicato E andiamo a versare proprio tutto l'olio Su tutta la superficie del filtro a pannello Ovviamente io l'ho capovolto Cioè l'ho fatto su entrambi i lati alla fine Quindi non ha importanza E l'unica cosa non mettetene troppo Ok ragazzi ne mettete la quantità giusta E con un abbondate Basta che il cotone si impregni di olio E che non coli Se l'olio cola vuol dire che ne avete messo troppo E questo non deve succedere Fatto questo vedete che più o meno Il risultato è omogeneo Le chiazze vanno rifinite con un altro po' di olio Lasciate asciugare sempre quelle 2-3 ore Così che l'olio venga rappreso E siete pronti per montarlo in macchina Quindi ragazzi spero che il video vi sia piaciuto Iscrivetevi al mio canale Seguitemi sulla mia pagina Instagram Mitch Tuning Per questo video è tutto Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti